Oggi abbiamo il piacere di aprire una nuova realtà su Genova che è un'agenzia di viaggi si chiama Baleno by Free Travel ed è nata con lo scopo di soddisfare le esigenze dei voli marittimi e poi si è sviluppata all'interno del gruppo anche con una logica di leisure e tariffe corporate che offriamo alle nostre aziende. Questo significa che comunque ci sono aziende che vogliono investire, credono in Genova, aspettative sì, cerchiamo di dare un po' un vento di rinnovamento a Genova, abbiamo delle aspettative soprattutto sulle aziende perché il nostro gruppo ovviamente è molto forte a livello commerciale e poi ci siamo aperti alle aziende anche per la parte leisure come welfare per i dipendenti, questa logica vediamo che a livello internazionale paga, è una cosa molto apprezzata e quindi l'abbiamo trasportata anche nella nostra realtà. Sul sito di Baleno è prevista anche una chat online dove i clienti possono tranquillamente collegarsi e chiedere le informazioni di cui hanno bisogno, è un po' un'alternativa più personalizzata a internet. Provare a vedere se l'esperienza della gente di viaggio comunque paga con il vantaggio di potersi collegare online in qualsiasi simulare.